Lo sfalcio del verde pubblico nei pressi degli incroci delle strade comunali, provinciali e delle rotatorie è sempre più occasionale a causa dei tagli alla manutenzione delle strade Una volta lo sfalcio avveniva con regolarità e la rasatura dell'erba garantiva visuali adeguate Oggi non è più così, con un'ulteriore elevazione del rischio sulla strada in particolare per ciclisti e motociclisti, spesso resi invisibili dall'ormai ingovernabile altezza dell'erba In questi giorni ci sono pervenute in redazione diverse segnalazioni che riguardano lo svincolo per Bellocchi lungo la Flaminia, già teatro di gravi incidenti la scorsa settimana proprio ai danni di un ciclista settantenne e di uno scuterista Posizionato esattamente all'incrocio tra via Einstein proveniente da Bellocchi e l'intersecazione con la via Flaminia Effettivamente chi arriva qui allo stop, sia che guardi a sinistra o sia che guardi a destra ha la visuale ostruita dall'erba Vedete io sono alto 1,85 m e questo vi dà il livello, la misura al quale l'erba è arrivata L'altezza dell'erbace rappresenta un vero pericolo proprio nelle intersezioni varie dello svincolo celando la segnaletica e rendendo impossibile persino scorgere la presenza di auto e moto Stessa cosa per chi dalla Flaminia invece si mette verso la zona di Bellocchi le persone che ugualmente occupano lo svincolo girando verso destra, sempre verso Bellocchi non hanno visuale piena perché anche qui in questo caso vedete alle mie spalle è passata una macchina e quasi non si è vista Anche le rotatorie non sono esenti da possibili disboscamenti, non solo estetici vista la loro posizione di benvenuto in città per chi arriva a Fano sia da nord che da sud Le aiuole spartitraffico dunque trasformate in piccoli boschi con rovi ed erba alta oltre un metro una vera barriera visiva, anche per le auto delle vere e proprie trappole dove per aumentare la visuale si è costretti a oltrepassare la linea di stop con purtroppo alle volte conseguenze fatali Anche noi abbiamo fatto una prova a bordo di un'auto proprio nello svincolo di Bellocchi E questa è la visuale che si ha una volta che si arriva con la macchina all'incrocio e ci si ferma allo stop, sia verso destra che verso sinistra Grazie